umani siamo la specie più evoluta sulla terra quando comunichiamo immagina cosa succede quando anche i nostri veicoli iniziano a comunicare puoi chiederti avrò chiuso l'auto e la tua auto ti risponde sì la tua auto potrebbe raccontare a tuo padre come guidi molto bene se c'è un problema i tuoi pneumatici possono raccontarlo al meccanico la tua auto può parlare con un satellite che parla con la rete che parla con il traffico che a sua volta riceve un messaggio chiaro dal trattore di jack e il messaggio è che oggi è meglio prendere la tangenziale e dal momento che le stazioni di ricarica sono le nuove stazioni di servizio la tua auto ti dirà dove trovare sia energia sia un buon caffè mentre aspetti più ci connettiamo più miglioriamo connetti la tua auto a ford pass